Federica Lindi, approfittiamo della tua presenza alle Gavolle Summer Tour per farci raccontare cosa succederà tra due settimane a Marina Tiravetta. Tra due settimane, 26 e 27 luglio, ci sarà il Cazzo Bovenix, ci sarà la terza condivisione e unione, ci sarà la terza festa con il nome di Bovo, ma che vi assicuro che è un'unione con il nome di tutti, con il cuore di tutti e con l'affetto e la pallavolo e nonna. Noi non ci lasceremo mai che si do, che si sente, quindi vi aspetto veramente numerosi che siamo a braccia aperte. A Marina Tiravetta? Marina Tiravetta al bagno Obelix, pagina Facebook per qualsiasi cosa e poi venite perché ne vale la pena. E poi non dite che non ve l'abbiamo detto. Eccoci, ciao a tutti, grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.